ciao in questo video voglio parlarti delle assimetrie del viso e sì perché ogni viso ha una leggera assimetria che cosa vuol dire che la parte destra non è perfettamente uguale alla parte sinistra per farti un esempio guarda qua una mia foto quindi questa è la foto originale e guarda adesso se unisco entrambi i lati sinistri quindi il mio aspetto sarebbe così vedi cosa vuol dire avere due lati perfettamente uguali oppure se unisco entrambi i miei lati destri guarda un po questa sarei io se avessi entrambi i lati destri perfettamente uguali questo cosa vuol dire che nella natura noi già nasciamo con delle leggere assimetrie del viso ed è giusto così perché è proprio questo che rende il viso affascinante e bello perché se fossimo esattamente uguali entrambi i lati sai benissimo e hai visto anche delle foto che alla fine non saremmo proprio così belli il bello rende proprio il fatto che entrambi i lati siano diversi lo yoga facciale come può esserti di aiuto in caso di assimetrie un po più evidenti beh con lo yoga facciale assolutamente puoi migliorare quindi avvicinarti a un pareggio delle due due parti sempre tenendo conto che non dobbiamo essere per forza uguali da entrambi i lati anche perché è impossibile perché già nasciamo con delle assimetrie ma se per caso noti sul tuo volto che un lato è più sviluppato rispetto all'altro oppure un sopracciglio più abbassato rispetto all'altro un angolino della bocca è più basso rispetto all'altro con lo yoga facciale puoi sicuramente migliorare e ridurre queste differenze come fai questo come fai ad aggiustare queste piccole imperfezioni semplicemente mentre fai gli esercizi specifici quindi se fai l'esercizio per il sopracciglio ti concentri un po di più con la consapevolezza di far lavorare bene il lato più debole quindi se mentre fai l'esercizio che include comunque entrambi i lati tu ti focalizzi sposti l'attenzione un po di più sul lato debole quindi assicurandoti veramente di far lavorare bene i muscoli del lato debole stessa cosa vale per le guance quindi se noti che una guancia la guancia destra è più forte rispetto a quella sinistra di nuovo quando fai l'esercizio che comunque include e coinvolge entrambi i lati tu sposti l'attenzione sul lato più debole è come se lavorassi solo sul lato debole ma ovviamente stai lavorando anche sull'altro lato ma facendo così spostando l'attenzione sul lato debole ti assicuri che quel lato la guancia più debole lavori si rafforzi si tonifichi perché se tu non poni l'attenzione in questo modo rischi di fare l'esercizio sì ma il lato più forte continua a svilupparsi diventando sempre più forte e sollevandosi sempre di più mentre il lato debole non ponendovi l'adeguata attenzione rimane lì dove è e quindi le differenze saranno sempre più maggiori stessa cosa se per caso noti un angolino della bocca più alto rispetto all'altro uguale mentre fai gli esercizi come ad esempio il joker che è un ottimo esercizio per sollevare gli angolini della bocca anche lì ti concentri magari nel primo step porti a forza con le dita l'angolino sulla posizione desiderata e poi durante l'esercizio ti sforzi nel mantenere quella posizione in questo modo appunto ci assicuriamo di sviluppare in modo adeguato i muscoletti e in questo modo anche le asimmetrie saranno non saranno così accentuate e così evidenti ripeto siamo comunque asimmetrici ma se ci sono delle differenze molto molto accentuate con lo yoga facciale le possiamo ridurre se ti è piaciuto questo video metti un like e metti anche seguimi così non ti perderai altri miei video ciao al prossimo video